Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr.White e siamo qui oggi con un nuovo squad builder Uno squad builder di una squadra di Premier League Low Cost, un 5-3-2, un modulo interessante che vedremo nel prossimo guida ai moduli Iniziamo subito comunque col portiere, Mignolet, Mignolet è il portiere del Liverpool, secondo me è un ottimo portiere E' il secondo miglior portiere del Belgio, perché c'è Courtois che è un mostro sacco, comunque anche lui non è affatto male Abbastanza alto, 1,93 m, devo dire che non ha statistiche negative tranne forse il rinvio e la presa Per il resto sono superiori all'80, per quello che costa 2700 crediti su Xbox, perché vi ricordo che i prezzi sono quelli Xbox E' un ottimo acquisto, contate che poi il portiere è molto personale, quindi potrete trovarvi o bene o male Quello dipende molto da voi, tipo ad esempio c'è molta gente che con noi si sta trovando davvero male Nonostante abbia 90 di valutazione Il terzino destro barra ADA, io non ho cambiato le posizioni dei giocatori per sparmiare Ho messo Johnson del Liverpool, non era la mia prima scelta Però ho visto che comunque avevo un minimo di difesa, un minimo di fisico E' un terzino abbastanza completo, non è velocissimo Io quindi ho scelto di non mettere un terzino troppo troppo offensivo Volendo potremmo fare una sostituzione, questo è un modulo che si presta molti a cambi Potreste mettere tranquillamente giocatori come Walker, un Coleman, un Raphael Quindi ci sono tante scelte per il terzino, anche un clean se volete metterli argento Comunque un ottimo terzino Johnson, secondo me, nel complessivo Passiamo ai tre difensori centrali Il primo è Rojo, 4500 crediti quindi costa abbastanza Però li vale tutti, secondo me E' un 1,86m quindi non è altissimo Però ha una buona velocità, ha un buon valore di difesa e un buon fisico Non è importantissimo avere difensori alti in questo FIFA Perché comunque abbiamo visto che i cross non sono così efficaci come l'anno scorso Quindi anche mettere qualche difensore centrale intorno al 1,85m di sicuro non ci penalizza troppo Poi è importante avere un difensore un minimo veloce Il primo, quello in mezzo dei tre centrali è Kabul, 1,91m lui sì che è alto Sempre buona velocità, buona difesa e buon fisico Le altre statistiche non sono importanti per un difensore Perché il dripling, il passaggio, il tiro alla fine non li usiamo praticamente mai Costa 850 crediti quindi costa veramente poco quest'anno E comunque è sempre solido Non è il Kabul di due anni fa però comunque sa farsi valere Devo dire che ci sono tanti, tanti, tanti difensori centrali forti, low cost In BPL, UNOA, Smalling, Evans Ce ne sono davvero tanti quindi avete ampia libertà di scelta E l'ultimo è Kolker 75 di velocità quindi ho messo una difesa non velocissima Quindi non c'è nessuno con 80 di velocità Però sono tutti abbastanza alti perché comunque Kolker ha 1,91m Ha un worker prevalentemente difensivo E comunque hanno buoni valori E costano poco soprattutto che è la cosa più importante Il terzino sinistro ho messo Gibbs Anche lui non è velocissimo però ha buoni valori difensivi Alto normale di worker quindi comunque spinge un po' in avanti Quindi attenzione se volete mettere il miglior terzino sinistro Potreste mettere il Moreno del Liverpool Lo spagnolo che spinge davvero tanto E può spaccare in due le squadre avversari Passiamo al centro campo Troviamo tre giocatori che si completano bene la vicenda Perché abbiamo Paulinho che fa il ruolo dell'incursore Alto normale di work rates Quindi è un giocatore che si va a buttare dentro Tutta statistica è superiore al 70 ampiamente Perché comunque la più bassa è 73 di passaggio Peccato per le skill e le trattare le immostabilità Che lo pianizzano un po' Comunque è un giocatore pazzesco secondo me Molto molto forte In mezzo troviamo Diabì 1,90m Quindi ho messo quello più alto in mezzo In modo da comunque vincere qualche duello all'aereo Attenzione Diabì funziona quasi da finto tre quarti Perché anche lui nonostante abbia normali di work rates Si va a buttare dentro e col fisico davvero fa disastri Poi ha 80 di dribbling Quindi ha veramente un valore elevato di dribbling Per essere un giocatore così alto Chiude il centro campo Dembélé anche lui è abbastanza alto 1,85m Quindi ho messo un centro campo fisico 4 stalli skill È sinistro quindi l'ho messo a destra Così può rientrare e tirare In ogni caso anche lui niente affatto male Sono tre centrocampisti che si completano bene la vicenda Perché Dembélé è leggermente più tecnico Per quanto riguarda il dribbling Diabì è quello più fisico secondo me Perché comunque è quello che è in difesa Sa farsi valere di più E poi abbiamo Paulinho Che si butta dentro Lasciate stare il valore di difesa Perché davvero Diabì è un muro Quando ve lo ritrovate davanti Chiudiamo con l'attacco L'attacco troviamo il primo giocatore Welbeck Alto alto di walk rates Si sente abbastanza però Per 1600 crediti È un buon acquisto 7 partite 6 gole 4 ases Quando ho registrato questo video Poi comunque è migliorato Sto giocando in divisione 3 o 4 Quindi comunque è una divisione abbastanza elevata È un metro 85 Però non ha molta forza fisica Per un giocatore da velocità E dribbling L'altro attaccante Questo può variare Di solito ne metto uno un po' più basso Come in questo caso Vargas Ma può essere tranquillamente Zara Sarate a Gero se avete i soldi E due Vargas non mi sta dispiacendo 4 sale skill 4 sale piede debole Ha una buona tiro Nonostante tutto Ha una buona velocità E un ottimo dribbling Quindi anche lui Non mi ha affatto deluso Sono due ottimi attaccanti Ci sono anche qui Tante 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 alternative Potete mettere Vargas Zara Vargas di Uf Di Uf Zara Te Welbeck Zara Quindi tantissime alternative Anche per l'attacco di una BPL Poi ovviamente Sarete i soldi Potete mettere i vari Starridge Eccetera eccetera Punti forti Di questa squadra Sicuramente Se vi mettete in difensiva Non passa nessuno Perché Avete Diaby e Dembélé Che vanno molto ad aiutare Abbiamo 3 difensori centrali Sempre Quindi difficilmente Sarete scoperti Se l'avversario Poi anche quando siete Magari in equilibrato Vi attacca a difesa a coperta Quindi senza ripartire In contropiede Si troverà davanti a un muro Perché comunque I centrocampisti Stanno in linea Abbiamo 5 difensori Quindi sarà davvero difficile Per lui trovare spazi Per andare a segnare I contro Potrebbero essere Che gli attaccanti Non sono poi Questi fenomeni Sono sì buoni attaccanti Però nelle divisioni più alte Ho provato a fare una partita Contro Compagni E Jérôme Boateng Hanno fatto davvero tanta fatica E manca poi magari Quel giocatore Su punizioni Che può dare qualcosina in più Perché non c'è Un grandissimo tiratore Di punizioni Questo può essere un male Perché se avete visto Tirare le punizioni Su questo FIFA È veramente più facile Rispetto agli altri anni Quindi potrebbe essere Una grave mancanza Quindi questo Era una BPL Abbastanza low cost Perché comunque Costa sui 40.000 Ve la potete giocare Fino alla divisione 3 Secondo me anche di più È una squadra Che Sa il fatto suo Volendo potete Aggradarla pesantemente In praticamente tutti i ruoli Quindi Ditemi un po' Se avete provato 532 Adesso uscirà la guida In modulo Di questa Formazione Perché mi ha veramente Sorpreso Quindi noi ci vedremo presto Ciao a tutti Trova la botta Grande Grazie a tutti